Durante il matrimonio di Kate Middleton e William si era parlato solo di lei. Ecco come è cambiata oggi sua sorella Pippa. Sono passati 12 anni da quando il primo genito di re Carlo, William e Kate Middleton, sono convolati a nozze sotto gli sguardi curiosi e commossi di tutto il mondo, e, mentre la loro vita a corte prosegue serenamente, c'è chi si chiede che fine abbia fatto la sorella di Kate, Pippa e come sia diventata oggi. Pippa Middleton, infatti, è stata a suo malgrado una delle protagoniste indiscusse al matrimonio della sorella e del futuro re d'Inghilterra. Tutto il mondo infatti aveva notato la sua bellezza acqua e sapone e il suo vestito bianco, che la fasciava elegantemente, mettendo in risalto le sue forme che avevano fatto girare la testa ai sudditi inglesi e non solo, finendo sulle prime pagine dei tabloid. Nonostante questo involontario momento di successo, Pippa Middleton ha sempre preferito mantenere un profilo basso, senza eccessi o scivoloni, anche per favorire la sorella Kate. Da sempre molto attenta a non farsi notare per gli eccessi. Tutta la famiglia Middleton, infatti, tiene molto alla propria immagine e non si è mai fatta notare in atteggiamenti scomodi o compromettenti, che avrebbero potuto mettere in difficoltà l'attuale principessa del Galles. Cosa fa oggi Pippa Middleton? La sorella minore di Kate. Dopo essere diventata una celebrità al matrimonio di Kate e William nel 2011, Pippa è sparita dai riflettori e ha preferito continuare la sua vita lontano dalla stampa e dai tabloid. Nel 2017, la sorella minore di Kate ha sposato l'ex pilota britannico James Matthews, in una piccola cerimonia tenutasi in una cittadina situata ad est di Londra. L'anno successivo, nel 2018, Pippa e James hanno dato alla luce il loro primo figlio, Arthur. Mentre nel 2021 la sorella di Kate è diventata madre per la seconda volta, partorendo la sua secondogenita Grace. Nonostante non sia presente sui social di recente Pippa è stata scovata dai fotografi e le sue condizioni hanno destato qualche perplessità nei sudditi, che hanno stentato a riconoscerla. Mentre si trovava in giro per alcune commissioni, Pippa Middleton, è stata paparazzata dai fotografi inglesi vicino alla sua abitazione e le foto diffuse in rete hanno subito fatto il giro del mondo. Lasciando i sudditi senza parole. La sorella di Kate, infatti, si è mostrata con un look dimesso. I cappelli in disordine e un abito semplice. L'assenza di trucco inoltre, non ha aiutato la situazione. Pippa si è quindi mostrata ben diversa da come i sudditi la ricordavano e di come si è mostrata in alcuni eventi ufficiali recenti. Pippa si è mostrata in alcuni eventi ufficiali recenti. Pippa si è mostrata in alcuni eventi ufficiali recenti.